Allora una cosa quindi non abbiamo paura di chiudere in perdita con perdite minori questa è una cosa che ti porterà a migliorare il risultato a fine del mese quindi non guardare il singolo guarda che a fine mese quella roba lì ti migliora ti dico che se il tuo rischio è 100 mediamente tu dovresti avere dei costi di 60 non di 100 secondo me quindi prova a mantenere un'idea di questo tipo quindi spostati questa cosa che ti ho detto rimane tua ovvio ci sta lo stop da 100 ma se il tuo stop è 100 siccome comunque è uno stop paracaduta ancora non è che sia lo stop è uno stop paracaduta non è uno stop classico quindi quello lì nel momento in cui il mercato si muove o contro con me devo iniziare siccome è un quattro ore già conferma della conferma della conferma deve darmi qualcosa un risultato positivo negativo quindi inizio a vedere cosa mi fa inizio a esco no tengo sì se tengo c'è ancora spostare non c'è ancora spostare sto lì dopo due candele c'è da spostare adesso sì il mercato magari ha fatto un nuovo minimo sta salendo però è ancora là però il minimo lo sta riprendendo bene mi sposto oppure ha fatto il massimo in stile un po pin e ritorna un po giù mi sposto se questo viene viene giù certo esatto quindi non perdo 100 perdo 40 50 30 70 ma non perdo 100 perché dei 100 se io perdo mediamente facciamo esempio invece di 160 quei 40 sono dei 3 da profitto ricorda esatto alla fine sì assolutamente questo è un po che volevo volevo dirti comunque mi sembra bene e direi di continuare in questo modo daniele ottimo sei delle domande scrivimi via mail perché insomma mi sembra e noi ci rivediamo ogni adesso vediamo fai altri magari fine ottobre altri 8 9 trade tanto vedo che sei abbastanza mi sembri abbastanza anche sicuro di te no sì sì assolutamente è cambiato tutto cioè a fine luglio cioè visto quando pensi a una cosa passata e magari fa la cosa a cui non eri tanto sicuro la vedi un po appannata invece io quando adesso rivedi trade che ho fatto l'ultimo periodo cioè per me sono nitidi cioè proprio sono miei come posso dire infatti anche quando tu sei uscito ieri a new zealand per me è stato un test un grande test perché io sono uscito perché io sono uscito perché avevo il canadese sì sì però probabilmente può essere che rimanevo è appunto però da neofita uno magari certe cose non le capisce però appunto sono riuscito a capirla questa cosa andando prima della mia paura eh di di non essere sicuro quindi di eseguire te che sei il maestro per cui eh e ho capito questa cosa avevi già il canadese per cui insomma bravo bravo la soddisfazione anche su questo lato hai anche spostato a break even quindi benissimo hai fatto la scelta giusta in quel momento perché ormai aveva dato un po' si stava e quindi sai magari l'euro iniziava a scendere l'altro iniziava a scendere questo scendeva e tu magari ti trovavi in perdita no esatto quindi hai fatto un ottimo trade forse quello gestito con più no eh con più gestione con più gestione e quindi molto molto bene altre cose non so dimmi eh siamo qua se ci sono per ora sto nel senso c'ho tanta voglia di testarmi nel senso ovviamente sempre con criterio perché comunque sia però ecco questa cacchierata con te mi ha aiutato tanto sul discorso delle più sicurezza nello spostare lo stop sì sì è una cosa che è o più eh esatto è una cosa che sto consapevizzando tanto nelle ultime due settimane e ancora mi mancava qualcosa ma con te sicuramente mi darai un bel volano di diciamo mi hai avviato un'altra fase di sviluppo sicuramente fatti sempre tante domande no cosa farebbe dove inizia se il mercato ha fatto questo facciamo fatti la domanda se mi sposto lì cosa può succedere allora perdo meno oppure guadagno un po meno ma se poi magari scende troppo il mio conto amministrativo adesso sono non so più mille euro questo mese bene eh questo cosa mi dà mi dà altri 50 euro bene cioè c'è capito cosa facciamo sempre le domande che siano proprio non sia per forza il grafico eh ma il sentirsi indisciplinati o poco no non c'è questo c'è versione neutra è come se tu non fossi dentro al trade ok bene qua adesso la cosa io non sono dentro al trade cos'è che può succedere qui se scende quanto può scendere allora mi metto con lo stop non attaccato sposto di quanto vediamo la vola cos'è nelle ultime due tre candela quattro ore e mi metto là se scendo e perderò invece di eh guadagnare trenta che stai guadagnando ne perdo venti va bene nel senso non cambia nulla perché la mia media di stop invece di cento magari se cento il mio stop deve essere intorno ai sessanta settanta al massimo e tu ti fai tutti questi ragionamenti vedrai che poi alla fine del mese il guadagno è ancora superiore assolutamente sì 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 ci sta ci sta la grande sì c'è ora sta cosa sta cosa ma ma adesso è proprio aperto la mente sento proprio sì sì stiamo a cospiegarli stanno dicendo le cose di un attimo da volarlo però sì assolutamente assolutamente mi fa molto piacere bene allora dai tu continua a mettere in pratica noi ci vediamo quando hai fatto i prossimi sette otto dieci vedi tu un po' no non andiamo troppo di troppi trade se no non riusciamo ci mettiamo una vita a vederli però insomma fai sempre sette otto dieci trade quindi da qui a un mesetto secondo me ci vedremo sì nel mese di ottobre magari più o meno secondo me li fai i trade lì e così andiamo sempre di più verso una costanza e un dire beh adesso il patentino daniele potremmo iniziare a darglielo ok quando guadagniamo vi sta insomma bisogna cioè ovviamente io allora il risultato economico non lo guardo in modo primario io guardo il processo questo è per me per me anto per noi per l'accademia è quella la cosa fondamentale però è ovvio che devo anche capire bene il processo è buono poi però il processo è buono e perdi c'è qualcosa che non va che può essere da aggiustare poi ci può essere che è il mese negativo quello capita capito non è che può capitare c'è l'azienda che comunque magari c'è al mese un po negativo il trader che ha al mese ci sta anche gli edge found ce l'hanno ma deve essere quanto negativo rispetto al rischio che per quanto negativo rispetto cioè se sto facendo tutte nello studio tutte scelte sbagliate oppure anche scelte di gestione sbagliate allora lì magari il negativo è per questo cioè mantenere il focus in maniera veramente con la barra molto alta non è neanche facile però se sentiamo che ci manca un po magari allentiamo un pelo esatto passo indietro però per me è molto importante vedere tutto il processo quindi mi hai spiegato tutti i trade vediamo un po il diario che cosa hai fatto a inserire tutte le voci anche nel decision making quindi ti puoi rivedere tutto in maniera chiara vediamo anche il risultato economico bene è un risultato negativo positivo mediamente positivamente negativo break even vediamo no ci chiamo di capire cioè cerchiamo di allineare tutto perché comunque il risultato economico positivo è anche la somma di cose fatte bene certo a volte il risultato anche negativo può essere di cose fatte bene ma non deve essere un deve essere una ogni tanto può esserci magari qualche mese un po più a break even perché magari il mercato veramente però io sono convinto che se il processo è buono se le scelte sono buone se la gestione è con la paura di fallire alla fine del mese noi possiamo guadagnare noi dobbiamo avere paura di non avere più i soldi sul conto di non avere più i soldi per mangiare per portare a casa la spesa allora questo permette di avere una qualità e di tenere la stecca alta di tenere la barra su perché tu sei sempre attento non ti puoi far non puoi far cazzate capito cioè devi mantenerti su e allora questo vedrai io sono convinto che ti la qualità perché questo quando vedi il trigger questo mi mi avvicina all'obiettivo o mi avvicina all'obiettivo di fallire ok proprio drastico si si può sicuro ok o mi avvicina all'obiettivo di fare un buon trade che sappiamo non c'è aspettativa del guadagno ma questo è quello che mi può far bene bene poi gestisco e gestisco i costi minori perché più tengo i costi bassi più a fine mese c'è anche il mese di drawdown sarà un mese di drawdown ridicolo perché i costi sono bassi no mercato non vale la mia bisogna chiudere non teniamo perché speriamo che chiudiamo quella roba lì più faccio così e più prendo quelle perdite più mi avvicino al fatto che io posso fallire ma io non voglio fallire ok io devo portare a casa quello che il mercato mi può dare e cerco di prendere al massimo a volte riuscirò a fare i trade come hai fatto su nio zelanda a volte ti cadranno dei trade alla silver che non prenderai un grande movimento capitano va bene ma il processo è giusto ok il processo è corretto quindi prova a proprio a lavorare su questo su queste no su queste affermazioni e senza ovviamente paura di tradare ma con la paura di fallire quello sì ciao